ah buonasera sappiate che io ho ucciso mille peluche peluchisti ma tu mi hai scritto una canzone per il disco nuovo? io no sicuro? adesso basta vero ragazzi? dai su buona giornata guarda avanti ma lasciate in pace mangiare lo solo datemi gli amici veri devono dire sempre la verità fatevi i cazzi vostri però se sta facendo la cosa deve far andare giù bello bellissimo tu mi guardavi ed io ti dicevo amore non aver paura troveremo un modo per andare via di qua lo giro e lo adoro poi lì non ci veda poi andavi andavi guarda che credo ho sentito guarda come stai? Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, niente. Non so perché... Va tutto bene, il pezzo è una bomba, ma io resto umido. Bella questa scala su che la prende, fa un po' No, 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 no. Mimmo, cosa stai facendo agli miei capelli? Stiamo andando su un pianeta. È un panettone. Su Marte stiamo andando. Ma che bello. Che bello. È la cocola del 2018. Fammi capire, ti piace il mio gatto? È un'esperienza mia. È un'esperienza mia. Lo sai che è la prima volta che lo preparo? È per me. Sì. Per il mio truccatore di fiducia. È un'esperienza. Lo meglio di un fumbo.